Ci avevano già pensato nel 500 ad un'uscita di emergenza alla rocca malatestiana, si chiamava porta del soccorso e dava direttamente sul versante del porto canale, era provvista di una rampa i cui segni sono ancora visibili nelle mura della rocca e sfruttando questa porta ora chiusa ma le cui evidenti tracce presenti nelle mura sono venute alla luce dopo la pulizia delle sterpaglie che i tecnici del comune collaborando a stretto contatto con la sovrintendenza delle belle arti creeranno la tanto agoniata porta di sicurezza. Questa opera oltre ad un elevatore esterno per disabili che renderà fruibili anche gli spazi interni permetterà una volta realizzata di portare la capienza del cortile interno dalle 99 persone odierne alle 810 a sedere rendendo la rocca un contenitore culturale multifunzionale. Riportiamo in disponibilità della città un contenitore culturale che è una risposta anche alla vivacità di tante associazioni di tante iniziative che ci sono e idee che ci sono nella nostra città. È un percorso che stiamo facendo che va a riqualificare e rivalorizzare tutto il centro storico per la città per i turisti che verranno quindi non posso non nascondere la mia soddisfazione per questo ulteriore risultato che conseguiamo ma soprattutto è la bella risposta che diamo ai cittadini che attendevano da troppi anni questa opportunità. Oltre a questi interventi di opere murarie sono in cantiere anche opere di climatizzazione degli spazi interni e impianti di sicurezza per un totale di spesa di 250 mila euro già appaltati. Una volta a regime si spera entro il mese di giugno la rocca malatestiana farà parte di un vero e proprio circuito di opere come il bastione sangallo e la darsena borghese votato tutto alla cultura. Questo è un intervento importante 250 mila euro a cui l'amministrazione tiene tanto l'ufficio tecnico ma l'ufficio cultura e il sindaco per cui è un intervento che faremo in tempi ragionevoli rapidi e quindi ci aspettiamo che insomma i lavori prendano il via il più presto possibile.